Come rivelato dall'agenzia di stampa di Ennecronos, questa mattina sono giunte minacce di morte al presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, e a un rappresentante di Confindustria. La lettera intimidatoria è stata recapitata nella sede di Palermo della Confindustria siciliana, era indirizzata all'imprenditore e vi era scritto testualmente «Fatti i fatti tuoi, e se continuerai ti faremo fare la stessa fine di Crocetta, che sarà scannato come un maiale». Crocetta ha affermato «Questa lettera contenente minacce di morte nei miei confronti non fa che confermare ulteriormente che su di me esiste un progetto di eliminazione, aggiungendo di non essere preoccupato per sé, ma molto preoccupato per gli altri, ovvero tutte le persone che gli vivono accanto». Nel 2003 fu sventato un agguato della mafia gelese, che aveva assoldato un killer venuto dall'estero per uccidere Crocetta durante la processione dell'Immacolata dell'8 dicembre. Da allora il governatore vive sotto scorta. Negli ultimi anni ha ricevuto diverse minacce di morte.